Simone Sini, una partita con tanti gol, però il Chieti ne ha falliti un po' troppi, soprattutto nel secondo tempo, merito anche del portiere ospite. Sicuramente è stata una partita ricca di gol e noi abbiamo avuto diverse occasioni, anche il primo tempo sul finale con Forgione, la doppia parata del portiere, il secondo tempo, sono occasioni che dobbiamo sfruttare, dobbiamo essere bravi a chiudere la partita perché poi se no te la porti fino alla fine così e rischi, come è successo l'ultimo contropiede, magari anche di prendere gol, quindi dobbiamo abituarci a fare questo tipo di partite qua e cercare di mettere la palla dentro. Partite sempre più difficili, gli avversari si vede che cominciano anche loro a crescere, come state crescendo voi? No, è normale, ora comunque questa è la sesta partita, mi pare, quindi tutti prendono condizione, riescono a entrare in condizione, ovviamente le partite saranno più difficili, anche perché magari in questo momento si parla tanto dei Chieti e quindi le squadre vorranno ovviamente sempre farci lo scherzetto. A proposito di condizione, la tua? No, no, buona, buona. Quindi sei pronto per insomma entrare e giocare e dare il tuo contributo? Sì, sì, quello sì.